allora buongiorno ragazzi buon mercoledì a tutti allora ieri sera serata l'estrazione 66 6 e 12 su firenze genova anche ieri non è uscito lo giochiamo abbiamo ancora gli ultimi due colpi lo giochiamo ancora due colpi l'86 68 avete visto che avevo fatto vedere purtroppo lo scontrino era su palermo roma e ci è uscito su torino lambetto 68 87 vabbè capita allora da segnalarvi per chi ha il metodo irripetente ieri il metodo irripetente gioca solo tre numeri per ambo eterno sono contento che qualcuno ieri ha fatto il terno su tutte su tutte perché le ruote erano cagliari firenze e genova è uscito il terno su bari 82 62 67 chi ha questo metodo gioca solo tre numeri per ambo eterno perciò il consiglio mio come qualcuno ha fatto un euro di terno su tutte mettetelo sempre il 48 che vi avevo dato dal doppio 48 vi avevo detto quando escono in prima in quinta posizione i numeri si ripetono eccolo qua uscito peccato che è uscito da solo io l'avevo abbinato insieme al 38 però è uscito il 48 qualche scontrino dell'ambata mi è arrivata adesso a parte che sto preparando dalle prossime estrazioni una previsione di una cosa mia abbastanza privata ma che privatamente la regalerò anche a voi adesso voglio prima che finiamo questo 66 e 12 6 da giocare per gli ultimi due colpi restanti perché poi se la cambiamo va a finire come il 4 e 22 che ci da lambo e io dico di non giocarlo più perciò i due colpi rimanenti lì rimane lì si rimangono si giocano ma dalle prossime estrazioni vi preparerò una previsione di una cosa mia che sto studiando di una cosa particolare che molto forte è che nelle prossime estrazioni regalerò anche voi allora ovviamente quando vi dico segnatevi tutto quello che che vi posso così consigliare Genova Milano c'era il 4 e 3 4 più 3 7 è qualcuno c'è avuto la brillante idea di giocare il 7 col vertibile qui è uscito è uscito lambo anche se io consiglio sempre di giocare solo il numero che si somma cioè il 7 al massimo era 7 43 qualcuno ci ha messo il vertibile è stato fortunato adesso nell'ultima estrazione avete visto che io ve la segnalo poi giustamente domani mattina nel prossimo video la scriverò anche la previsione avete visto che nell'ultimo video nell'ultimo quadro estrazionale su Milano e la nazionale c'è questo 7 70 e 70 avete visto ovviamente qui chiama il 77 ma al 77 lo andiamo a giocare esclusivamente con due abbinamenti il 14 e il 7 ok il 77 forte perché viene chiamato due volte 70 più 7 77 7 più 70 77 noi andiamo a giocarlo dal prossimo estrazione soltanto con due abbinamenti cioè il 7 e il 14 visto che sono solo due ruote io consiglio 77 7 ambo ambetto 77 14 ambo ambetto e poi provare 77 7 14 per ambo eterno questa condizione è molto forte è la stessa che siamo andati a prendere che siamo andati a prendere a fine settembre ok è la stessa identica condizione c'è il classico la classica l eccola qua all'incontrario perciò ve la segnalo attenzione Milano nazionale 77 7 e 14 va bene il periodico si continua a giocare il super venezia nazionale nazionale vabbè inutile che lo dico anche ieri questo gioca solo due terzine due terzine anche ieri sera ha dato un ambo su tutte chi ce l'ha anche se le ruote vi ricordo venezia e nazionale ok perciò si continuano a giocare su venezia e nazionale il periodico ieri sul sul periodico non è uscito nulla ma vi ricordo che le previsioni si giocano fino al 30 ottobre del periodico perciò è il primo periodico di ottobre su tre previsioni che avevamo tutte e tre andate in porto perciò mi raccomando chi ha acquistato il periodico continui a giocare il periodico ok i metodi vabbè ragazzi ripetente avete visto giocava tre numeri ha fatto un terno su tutte per qualcuno può essere nulla ma per molti un euro terno su tutti significa mezzo affitto pagato o mezzo mutuo pagato perciò continuate così va bene mi raccomando milano nazionale questo 77 7 e 14 noi ci vediamo al prossimo video questo il mio numero per qualsiasi cosa mi mandate un messaggio su whatsapp io sono ben lieto di aiutarvi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao